ciao bambini oggi parleremo di una cosa molto importante ovvero di ognuno di voi sapete che prima di essere nel cuore di mamma e papà eravate nei pensieri di dio sì proprio così quindi siete molto importanti e speciali e ognuno di voi è stato fatto in modo stupendo dio ti ha creato maschio o femmina e nel mondo non c'è nessuno uguale a te per questo motivo sei unico e speciale infatti hai delle caratteristiche uniche che ti contraddistinguono come il colore degli occhi della pelle il timbro della voce e hai sicuramente il tuo colore preferito il tuo cibo preferito e le tue passioni preferite il fatto di essere unico non significa essere peggiore o migliore degli altri ma vuol dire semplicemente essere diverso infatti siamo tutti diversi dagli altri ma ricorda sempre che hai un valore inestimabile allora coltiva sempre le tue capacità per realizzare i tuoi sogni e per diventare una persona adulta felice non smettere mai di imparare di creare di esplorare e di avere curiosità la tua vita è preziosa è un dono di dio e ricorda che sei stato fatto in modo stupendo ciao bambini alla prossima